La maniera più efficace per poter aumentare rapidamente la tua reputazione, credibilità e autorevolezza online è quella di creare una pagina, una sezione del tuo sito dove raccogliere le migliori risorse che ci sono online e che complementano il tuo servizio specifico. Fai conto che tu sei a un servizio di catering in una città specifica? Beh fammi una pagina dove posso trovare suddivisi per categoria tutti i servizi di audio e video, tutti i servizi che mi forniscono e noleggiano schermi e proiettori, tutti i servizi di animazione, tutti i servizi di staff, hostess, steward e via dicendo, tutti i servizi di tipografia e stampa di inviti, tutti i servizi per le location che ci sono in città o intorno alla città e per ognuna di queste offrimi una tua descrizione personalizzata mettendo il tuo nome, cognome, la faccia alla fine di questo catalogo e una tua valutazione di ognuna di queste. Quindi non mi serve la quantità, mi serve la selezione del meglio del meglio in questo settore. Per ogni categoria me ne puoi dire anche soltanto due o tre. Radunare in una sola pagina usando un servizio ad esempio gratuito come può essere Ziff o Scoopit o Flipboard o Pinterest stesso, un catalogo organizzato delle migliori risorse che ci sono là fuori e che complementano quello che tu offri ai tuoi clienti.